sempre avevo passione dei orologi però prima volta quando ho comprato un orologio importante era nel 2002 quando giocavo al milan e orologio mi ha fatto comprare mi ha aiutato a comprare il mio primo orologio era rolex tyton mi piaceva tantissimo nel 2004 quando abbiamo vinto champions league quel orologio ho regalato al mio padre accessori per il politico orologi che per vedere orario sai che politici siamo sempre impegnati abbiamo tanti appuntamenti perciò orario è sempre importante e anche telefono grazie a tutti